Un traffico illecito di 40.000 kg di rifiuti che partiva dal Piacentino e finiva nel continente nero, passando per Genova. Dieci soggetti denunciati, tra cui due italiani, cinque africani e tre uomini dell'est Europa. I carabinieri della forestale di Fiorenzuola d'Arda hanno avviato le indagini a febbraio del 2019, dopo la scoperta di un cascinale in località Paolo Prassa, dentro al quale hanno trovato un ingente quantitativo di rifiuti per lo più elettrodomestici usati o fuori uso. Dai monitoraggi è risultato che decine di uomini di origine soprattutto africana raggiungevano la cascina con mezzi carichi di rifiuti provenienti dai centri di stoccaggio comunali nei dintorni. Numerosi mezzi di trasporto, tra auto, furgoni ed autocarri, movimentavano la cascina ogni giorno. I rifiuti venivano poi trasportati al porto di Genova per essere spediti via mare in Africa a Togo. Nel cassone degli autocarri spezionati sono stati trovati congelatori, frigoriferi, televisori, forni elettrici, pneumatici e computer. Oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi e non accumulati all'interno dei container.